Dopo l'ennesima aggressione ai danni di un conducente di autobus della tua, i sindacati chiedono l'istituzione di tavoli per implementare azioni di contrasto e prevenzione, ma anche investire maggiori risorse sulla sicurezza a partire dai mezzi munendoli di cabine che proteggano i conducenti durante il servizio. Una piaga tristemente diffusa nella nostra regione, ma che riguarda non solo la tua, ma riguarda tutto il trasporto pubblico locale della nostra regione, sia su gomma che su ferro. Episodi quotidiani di aggressioni si verificano sia a bordo degli autobus, al capolinea, il capolinea è diventato terra di nessuno. Troppi episodi, bisogna arginare il fenomeno, bisogna intervenire, bisogna chi ha il potere di intervenire, quindi le aziende, le istituzioni, perché altrimenti gli operatori del settore non ce la fanno più a subire certe aggressioni quotidiane. Ultimo episodio, soltanto in linea temporale, conferma quanto sia diventato difficile e rischioso il mestiere di autista di autobus nel servizio di trasporto pubblico locale, sempre più spesso oggetto di pesanti aggressioni verbali che rischiano di sfociare anche in vere e proprie aggressioni fisiche. Aggressione, a volte anche violente. A Teramo è stato accoltellato un autista, a Giulianova l'altro ieri è stato malmenato con la rottura del settore rasale un altro autista. Aggressioni quotidiane ai verificatori, ai controllori a bordo degli autobus. Bisogna intervenire. In particolare, secondo i sindacati, c'è bisogno di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine nei luoghi cardine del trasporto pubblico. Altrimenti siamo a pannaggio di questi violenti. Bisogna intervenire. Facciamo un appello ai prefetti, facciamo un appello alle aziende. Ad esempio, alle aziende devono implementare i controllori a bordo dei mezzi. Ad esempio, su Tua c'è stato in pratica un abbassamento di questo livello di attenzione. Poco personale è addibito al controllo, alla verifica, che può fare anche da deterrente su questo fenomeno. Alle aziende abbiamo chiesto anche di dotare degli autobus con delle cabine protette, soprattutto nelle ore serali. Bisogna attivare un vero protocollo sicurezza su questo aspetto. Grazie a tutti.